Ciao ciao, ciao dal centro di Stoccolma, guardate quanta gente c'è, qui la vita va avanti, l'economia non si è mai fermata e la gente vive in modo normale, guardate, guardate, non c'è nemmeno una mascherina, guardate, qui non sanno nemmeno che cos'è il Covid, altro che tutte le cazzate che raccontano in Italia, vi ricordo che Stoccolma conta un milione di abitanti, un milione di abitanti, e tutte queste persone, guardate, 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 cioè ci sta anche lui, ci sta, guardate, guardate quanta gente, sono le 2.40 del pomeriggio, 26 ottobre 2020, guardate, ditemelo se trovate qualche mascherina, se la trovate, vincete in premio, allora Diego che pensi? Mi piace, ti piace? Non c'è nessuno, va bene, ecco, io continuerò sempre a raccontare la verità, invece di farvela leggere sui giornali, ve la faccio vedere direttamente, in diretta, capito? Perché qui il sottoscritto Riccardo non vi scrive, cazzate, vi dice solo la verità, solo, esclusivamente la verità, e ve la dimostro con le mie dirette e con i miei video, capito? Chiedete se qualcuno, qualche giornalista della RAI o dei Mediaset viene a fare qualche servizio qua a Stoccolma, non c'è nessuno che ci viene qua, perché altrimenti cosa vi dovrebbero dire? Cosa vi dovrebbero dire? E tutte queste persone, sono tutti matti, vi dovrebbero dire, visto che gli piace tanto fare i servizi in Italia, andando a chiedere alla gente di mettersi bene la mascherina, guardate qui, poi soprattutto c'è un altro fattore importantissimo, importantissimo, in Svezia è già inverno, qui non siamo, questo non è un posto di mare, capito? Dove fa caldo, qui in Svezia, come vedete, anche dall'abbigliamento? È inverno, quello, il famoso inverno di cui tutti hanno paura, perché dicono in inverno, eh, succede la fine del mondo, eh, a Stoccolma è già inverno, eh, andate a vedere i morti, va, andate a vedere quanti morti ci sono di Covid, va, in tutta la Svezia, va, andate a vedere, zero, andate a vedere, adesso, 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 ovviamente, eh, non dall'inizio, adesso, andate a vedere gli ultimi mesi, guardate, guardate, ditemelo, eh, se trovate una mascherina, ditemelo, questi allora sono tutti matti, secondo voi, dai, un milione di abitanti, ve lo ricordo, un milione di abitanti, Stoccolma, 5800 abitanti per chilometro quadrato, altro che in Svezia ci sono tre gatti, quattro gatti, guardate, guardate, vi sembrano quattro gatti questi, guardate, adesso sto uscendo, perché sto uscendo dal centro, guardate, un po' trovato, ma, un ristorante italiano. capone v banda, un minuto, gabate, guardate, 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 loneliness, guardate, 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 guardate. via Guardate, guardate, vediamo, guardate qua dentro, anche dentro questo ristorante, vita normale, la vita scorre normale. Va bene, continuerò dopo con altre dirette, per il momento un saluto, ciao da Riccardo.